Veronica Amistadi, manager 41-year-old, madre. È stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorsa sul relitto del flusso di noce, ai piedi del ponte Mostizzolo, a Trentino. Decise di finire, almeno così gli investigatori che offrono ipotesi suicida pensano. Brabando il suo piccolo, suo figlio di quattro anni con lui. Veronica Amistadi, è studiata mediante istigazione al suicidio una scelta, se fosse scelta, era, su cui nessuno investigatori in testa roga il diritto di pronunciare. È un atto che ti permetterà di svolgere tutte le indagini necessarie. Perché Veronica l'ha fatto? C'è qualcuno dietro questo gesto? Perché ha deciso di portare con sé suo figlio? Tutte queste domande proveranno a rispondere. L'apertura del pacchetto per investigazione al suicidio è un atto giusto e servirà a perdere piena luce sulle cause che hanno portato alla tragedia. Alcune ore prima di lanciarsi dal ponte di Mostizzolo, Veronica aveva chiamato sua sorella al telefono. Una conversazione come gli altri in cui avevano cercato di organizzare un viaggio insieme al Lake Garda. La donna, residente a Trento ma originaria Roncone, nel comune di Sella delle Giudicarie, si è lanciata dal ponte con il figlio nel contesto una relazione che è stata conclusa per qualche tempo. Prima di fare il gesto estremo, la donna ha lasciato un biglietto in macchina, all'interno del quale ci sarebbe anche un riferimento esplicito alla relazione complicata con l'ex partner. I corpi senza vita del 41 anni e suo figlio sono stati identificati dai carabinieri della Chess Company sulla ghirlanda del flusso Noce, dopo che un automobilista passaggio segnalato, circa uno di notte, la presenza a un veicolo si fermò con le luci onneare il ponte. Le operazioni recupero, condotte a partire dal 4 gradi mattino, una volta identificati i cadaveri, richiedeva l'impegno delle squadre di salvataggio alpino specializzate, dei vigili del fuoco e personale sanitario, che sono intervenuti con l'elicottero emergenza. L'identificazione delle due vittime è stata possibile grazie ai documenti trovati nell'auto. La donna ha affrontato il marketing internazionale per alcuni marchi ben noti, con incarichi di alto livello anche per una multinazionale straniera attiva nel settore farmaceutico. Nelle ultime ore, il sindaco di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli, ha incontrato la famiglia dei due le vittime, che esprimono la vicinanza dell'intera comunità. Anche il parroco del paese, Don Celestino Riz, voleva diffondere un videomessaggio per esprimere la sua condoglianza ai parenti delle vittime. Non è la prima volta che il mostizzolo bridge, che domina un burrone circa 90 metri sul flusso noce, poco prima che il corso d'acqua si immergesse nel lago Santa Giustina, è al centro una tragedia personale. Il ponte collega Stat Road 43 della valle non con la Road 42 di Statè e Mendola.n Trentino esistono dati di suicidi superiori alla media nazionale. Con 58 casi solo nel 2022.